ricordiamoci l'intento di studiare il torah e di connettere la sua alma a dio mettere in pratica e portare la redenzione salva a tutti prima di partire dal tuo luogo di residenza uno deve organizzare un fabbriquen chassidico sarebbe dire un raduno chassidico che si raduna con i suoi amici e i suoi amici gli danno una benedizione come dice il famoso versetto detto i chassidim non si separano mai e dunque si dicono mai addio perché ovunque si siano sono sempre uniti i chassidim sono una famiglia salva a tutti grazie a tutti